Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questo è un altro video battaglia tra sorbenti perché insomma come abbiamo capito me l'avete richiesto, questa volta voglio parlare dei Lines petalo pacco doppio notte con ali questo non l'avete quasi mai visto, chi mi segue nel canale di solito non uso tanto Lines petalo blu o comunque almeno che non sia Lines idea, questa tipologia di assorbente non l'utilizzo ma era in forte sfonto mentre poi parliamo del sempre notte, ultranotte con ali ripiegati, sempre cotone bio di Lidl allora partiamo dal presupposto che uno non è in cotone biologico mentre l'altro si ma io mi volevo focalizzare sul discorso dell'assorbente e non sul tessuto comunque per quanto riguarda anche l'assorbente Lines petalo blu non ho assolutamente riscontrato nessuna irritazione né durante post depilazione e quant'altro, così come l'assorbente sempre della Lidl guardate che è stata una mano dal cielo, una scoperta, spesso la mettono anche in offerta come possiamo vedere il prezzo pieno è 1,19€, prezzo nuovo 83 centesimi, quindi una miseria mentre Lines petalo adesso io non so dirvi con precisione il prezzo però pacco doppio deve esserci stata una super offerta per averlo acquistato all'interno sempre ne ha 10, mentre Lines petalo in questo caso il pacco doppio ce ne sono 18 tutte e due notte con ali, uno fa 31,7 ragazze, strano perché di solito i notte con ali sono 28 scusate, questo qua è più grande del normale anche sempre ha fatto 31,7 infatti sono tutti e due ultranotte, non sono notte normale ma sono ultranotte ecco del perché si è spiegato l'allungamento dell'assorbente sta prendendo qua un altro pacco notte con ali, un'altra tipologia di assorbenti che però ho qua perché avevo registrato un altro video in precedenza qua infatti dice notte con ali 28,4 quindi il classico assorbente notte con ali è 28,4 mentre questi due assorbenti qua sono più lunghi abbiamo un 31,7 quindi abbiamo ragazzi dei centimetri in più ed effettivamente fa la differenza, fa la differenza specialmente la notte ma anche per chi ha dei flussi abbondanti allora vi apro l'assorbente Lines sempre cotone biologico come possiamo vedere a differenza di altri ha la parte del sedere quindi la parte dietro più larga non è da tutti averla il tessuto è molto 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 morbido si sente che qua è un tessuto biologico l'altro petalo blu è profumato si sente la profumazione assolutamente quindi comunque è una cosa gradevole e nonostante vi dirò la profumazione non fa allergia ed eccolo qui con la sua appunto parte blu il tessuto, la larghezza del di dietro è leggermente più piccola rispetto a quelli della sempre per quanto riguarda invece la lunghezza anche io non mi fido nonostante i centimetri dichiarati voglio andare a controllare e ragazze ci siamo anche se come vedete sborda fuori un filo un filo un filo di tessuto in più nel quello della sempre cosa dirvi ragazzi io mi sono trovata benissimo con tutti e due purtroppo non c'è un vincitore perché abbiamo un pari merito questa volta abbiamo un pari merito forse non è mai successa una cosa del genere abbiamo un pari merito anche se ovviamente questi dell'idol sono più economici se prese appunto con lo sconto se prese a prezzo pieno più o meno credo che siano siamo come lì in spettolo non vorrei dire una stupidata perché comunque non me lo ricordo più ce l'avevo lì da un sacco di tempo ma vi dirò che mi sono trovata tanto 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 bene con tutti e due notti con ali ultra sottile mentre qua dice ultra notte con ali ripiegati ragazzi io assolutamente ve li consiglio tutti e due quello che trovate in offerta comprate comprate tutti e due come colla sullo slip assolutamente tutti e due tengono le ali sono perfette tutte e due non hanno la doppia ale come vi avevo fatto vedere in precedenza in un altro video lo trovate tutti nella playlist quelli degli assorbenti c'è una playlist dedicata non hanno la doppia ala perché al momento soltanto nuvenia flusso abblondante ha creato la doppia ala ma vi dirò che comunque l'assorbente rimane attaccato allo slip il flusso viene raccolto molto bene assorbe molto bene e non dà assolutamente irritazione ovvio che il cotone biologico si sente si sente perché è un cotone più morbido è un tessuto più morbido però vi dirò che ecco forse la differenza tra i due è che quando l'assorbente questo qui è al limite tende a farvi sentire quella leggera sensazione di bagnato diciamo così quindi voi capite che comunque è da cambiare assolutamente ve ne accorgete mentre l'altro il petalo blu no forse per la tipologia appunto di tessuto non fatto di cotone che va un po' più ad assorbire non sto dicendo che questo non assorbe il flusso assolutamente lo assorbe benissimo il problema è proprio che quando è pieno quando è pieno ve lo fa capire diciamo così ragazze un pari merito assolutamente dovete provarli tutti e due perché secondo me rimarrete sorpresi sia dell'idol mi raccomando se lo trovate compratelo io ho utilizzato anche quelli normali per di solito il primo giorno quando proprio non c'è un flusso ma c'è un inizio e una fine di ciclo diciamo così e mi sono trovata bene anche con quelli forse hanno ecco forse l'altro un giorno normale ha una colla che tende un po' a muoversi lo slip tende lo slip l'assorbente tende un po' più a muoversi sullo slip ma non l'ho trovato assolutamente per quanto riguarda questo qua della notte assolutamente dovete dovete assolutamente provarli abbiamo un pari merito mai successo bene ragazzi questa pillola anche questa pillola di assorbenti è andata vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao